Meno feriti, meno morti, meglio di così. Lungo le strade del Veneto, a dispetto dei sempre numerosi bollettini di morte che caratterizzano le cronache, il 2013 ha fatto registrare una tendenza positiva, come confermano i dati della sezione Sistema Statistico, attivato da un anno a cura della Regione Veneto, per monitorare il fenomeno degli episodi stradali, in collaborazione con la sezione Infrastrutture, Veneto Strade, le province e le prefetture, con la partecipazione di Polizia Stradale, Carabinieri e Polizia Locale. Il trend in flessione rispetta l'andamento degli ultimi anni, memori di campagne di prevenzione che hanno evidentemente toccato la sensibilità degli utenti. I citati dati, attraverso i centri di monitoraggio Istat, l'Istituto di Statistica, parlano di un dato generale riferito cioè alle sette province del Veneto, pari ad un meno 2,2% per quanto riguarda gli incidenti, un meno 3,4% per il numero dei feriti ed una mortalità scesa addirittura di quasi il 20%, con punte del 50% nella provincia di Rovigo. Nonostante episodi come quello avvenuto recentemente a Romano Dezzelino, nel Vicentino, con tre giovani macedoni deceduti e l'impressionante numero di centauri che nelle ultime settimane sono decedute per sinistri. Si è di recente conclusa l'attività formativa rivolta alle polizie locali del Veneto sulla qualità dei dati statistici per consentire la messa a punto di presupposti fondamentali in vista della definizione di efficaci misure di prevenzione, basate su campagne informative ed interventi sulle infrastrutture con maggiori criticità, proprio come la curva di Romano dove è avvenuta la strage dei macedoni.